Apre questa cazzo di pasta! No, mi sto so, apri! Incontrai Vincenzo per la prima volta in un supermercato e come sempre mi capita nella vita fu per caso. Signora? Signora, per qualsiasi cosa a disposizione, e tanti sto sempre qua. Sì, grazie. È possibile che ogni botta dobbiamo ripetere sempre le solite cose? Sì, va bene. Ho chiamato il mio fidanzato, tra un po' sarà qui col meccanico. Questo tossone, stavo con tutto cosa a foro! Gesù, quello già vestito va schifo, si sfoglia pure! È possibile che ci devo pensare sempre io? Sassone, direi tu e io, tutti i soldi e i bambini, capito? Perché non gli fai un regalo? Però non il solito regalo. Qualcosa di speciale? No, qualcosa di diverso. Tipo un viaggio, solo tu e lui. No, ma quale tagliare? Quello è impotente, si vede dalla faccia! Ui, signori! Sei sicura che non puoi salire tu? D'accordo, pezzo di merda. Adesso scendi. Oh, ti piacciono i giochi pesanti, eh? Non ci senti, coglione? Scendi! Sì, si è rotto il braccialetto che mi ha regalato. Io amo una persona per quello che è, non per quello che riesce a fare.